Luca Valzania affoggia pur con qualche episodio favorevole che ci sta nel calcio avete dato continuità di risultati e questo è molto importante ora c'è il Perugia, volete continuare ovviamente? Sì, sì, perché non abbiamo fatto nulla finora due partite, comunque ci è capitato anche già durante le regioni d'andata di vincere consecutivamente dobbiamo cercare di trovare una continuità che comunque sia tra virgolette un po' più lunga che ci dà più certezze e quindi andiamo venerdì domani per proseguire questa continuità e cercare la vittoria All'andata finì 4-2 per il Grifone, tu sei entrato in corso d'opera nonostante la sconfitta, credo di poter dire che sia stata una gara una delle gare in cui il Pescara ha giocato con lo stampo zemaniano un po' di più però avete pagato cara alcune disattenzioni? Sì, sì, sicuramente, probabilmente anche il Perugia era il Perugia diverso non era il Perugia di adesso e quindi magari ci ha messo più in difficoltà però dobbiamo stare comunque attenti domani perché non sarà una partita facile loro verranno qua ovviamente per metterci in difficoltà e provare a farci male dove magari ultimamente o comunque abbiamo peccato un po' più di errori però dobbiamo stare attenti, dobbiamo cercare di giocare magari a volte e provare a essere un po' più propositivi invece che come nelle ultime partite che un po' per i vari risultati che erano il momento che abbiamo passato però queste vittorie ci devono dare ancora più forza per avere più certezze e più sicurezze di noi Comunque siete sicuramente più sereni? Sì, sì, molto più sereni Ti aspetti un Perugia un po' abbottonato e magari tu ci proverai? Come hai fatto e hai deciso la partita con il Venezia dalla media distanza? Se capita certo ci provo perché dai non solo io ma comunque anche altri miei compagni ne abbiamo tra virgolette capacità e quindi quando c'è l'occasione ci proviamo e sicuramente domani il Perugia verrà qua per fare una partita non sbilanciarsi troppo perché sa che magari sbilanciandosi noi lo possiamo mettere in difficoltà e quindi sarà un po' più chiuso e cercherà di creare quelle poche palle gol e punirci in quelle poche palle gol che magari noi ricreeremo, noi cercheremo di non farlo perché domani dobbiamo fare una partita pressoché perfetta però noi andiamo in campo per vincere domani Come caratteristiche il Perugia è una squadra che segna parecchio, è segnato anche più di voi credo che sia il terzo attacco del campionato, subisce anche qualche gol di troppo ecco guardate anche a questa che è una statistica in fondo però i numeri non vanno in campo però ci si guarda? Sì, ripeto, dobbiamo stare attenti perché comunque sia il Perugia non è una squadra la classifica un po' aumenta anche per il loro fatto quindi hanno giocatori soprattutto nel reparto offensivo di un calibro per una serie più veramente importante quindi ci metteranno in difficoltà ma ne dobbiamo stare super attenti